Ciao, bentrovati sull'angolo di Claudia. Allora, oggi abbiamo Andromaca al posto di Salomone, questo allumerato grigio che vedete in fondo, che sta mangiando. E bene, detto questo, andiamo a vedere stasera la settimana. Sono con un giorno di ritardo, ma vediamo la settimana che è partita ieri, la settimana, dal 23 al 29 di maggio, con le solite tre varianti, ok? Ora, non ho preso da contrassegnare le varianti, mi sono dimenticata, bene, bene, bene. Allora, facciamo così. Le prendiamo da qui, che sono poi anche, saranno anche le vostre carte oracolari, ok? Quindi scegliete già direttamente, in base alle vostre carte oracolari. Allora, variante numero uno, iris. Vi faccio vedere, eccola, qua forse la vedete meglio. Iris, variante numero due. Pandora, Pandora. Sono un po' scure, eh? Sono un po' scure, come carte. Sono proprio scure, proprio, scusate, sposto. Sono proprio scuri i disegni, però... Dopo provo a farvele rivedere da vicino, eh? Variante numero tre. Galatea. Galatea. Allora, ve le faccio rivedere anche se effettivamente i disegni sono un po' scuri. Allora, iris. Prima variante, iris. Iris, la dea iris. Seconda variante, Pandora. Terza variante, Galatea. Ecco, forse così si vede un po' meglio. Allora, cercate di scegliere, anche se non si vedono bene, me ne rendo conto, cercate di scegliere anche in base al nome. Iris, Pandora, Galatea. Ok? E partiamo subito con la prima variante. Eccoci, prima variante. Allora, la prima variante ha scelto la dea iris. Che cosa vi vuole dire la dea iris? Rainbow. Qui c'è un bellissimo arcobaleno. Forse lo vedete? Sì, lo vedete, secondo me. C'è un bellissimo arcobaleno. Dunque, sono bellissime notizie per voi della prima variante per questa settimana. Ci possono essere delle comunicazioni, delle notizie, anche quasi delle rivelazioni, oppure delle riconciliazioni anche con amici, con degli ex, perché no? È comunque una energia molto positiva, energia proprio di belle cose in arrivo questa settimana, fondamentalmente. Proprio perché proprio iris, la dea iris è proprio contrassegnata da questo arcobaleno, quindi sicuramente per voi della prima variante, questa settimana sarà caratterizzata da delle sorprese positive. Andiamo a vedere adesso gli arcani maggiori. Allora, abbiamo gli amanti, la morte, il diavolo. Wow! Allora, prima variante. Dunque, guardando questi arcani maggiori, qui secondo me mi viene da dire che il primo messaggio che mi arriva per voi della prima variante è che qualcuno potrebbe aver fatto una scelta, una scelta in amore o aver subito una scelta in amore è che questa settimana, anche se ovviamente le energie sono positive, però è possibile che dopo tanto tempo e dopo tanta anche elaborazione di questa situazione sentimentale ci possano essere dei residui dentro di voi ancora non tanto positivi con questo diavolo. Questo è il primo messaggio che mi arriva e voi direte, beh, allora le sorprese positive, questo è già, questa è una cosa. Poi adesso comunque andiamo a vedere gli arcani minori, ma è ovvio che la stesa della settimana dà più informazioni, ok? Quindi la prima cosa è che sicuramente questa settimana sarà caratterizzata per voi da comunicazioni positive, da eventuali riconciliazioni con qualcuno, da sorprese positive. Questa è una cosa. Poi per alcuni di voi c'è un po' questo residuo, nonostante appunto questa cosa, questa scelta sentimentale fatta o subita per la quale secondo me è passato anche già del tempo, perché se c'è una morte, insomma, sicuramente è passato del tempo però insomma ci sono ancora dei residui. Questa settimana potrebbe anche essere che appunto sentiate ancora un qualcosa dentro di voi che vi dà fastidio. Un altro messaggio che mi arriva è che alcuni di voi si trovino a dover fare una scelta perché gli amanti, intendiamoci, è anche la carta della scelta, a dover fare una scelta proprio nell'arco di questa settimana o a ridosso, insomma, che richiede secondo me vi richiede una trasformazione proprio radicale vostra interiore cioè dovete abbandonare quello che è un atteggiamento vostro o una mentalità una parte di mentalità vostra che vi frena nel fare questa scelta, ok? Quindi questi sono un po' i due messaggi che mi arrivano oppure ancora potrebbe essere che per alcuni di voi ci possa essere una scelta sentimentale da fare quindi state attraversando un momento di cambiamento forte per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale e c'è un qualcosa appunto che in questa relazione non vi va bene ok? Quindi questi sono i tre messaggi che mi viene da darvi riguardo a questi tre arcani maggiori adesso andiamo a vedere gli arcani minori dieci di coppe tre di bastoni asso di bastoni vedete allora che conferma questo arcobaleno che sembrava fosse opuscato da questo diavolo in realtà no perché gli arcani minori vanno a confermare che qui in questa settimana ci sarà un qualcosa dopo una lunga elaborazione mi verrebbe da dire quindi ci sarà una scelta che verrà premiata nonostante questo diavolo che però viene schiacciato mi verrebbe da dire da queste belle carte positive abbiamo addirittura un dieci di coppe sotto la carta degli amanti quindi qui per alcuni di voi potrebbe veramente trattarsi di una questione sentimentale questa settimana che porta poi a veramente un nuovo inizio e a guardare avanti ad avere un nuovo inizio con l'asso di bastoni è possibile poi che a questo punto l'asso di bastoni sotto il diavolo potrebbe anche indicare che magari c'è un eccesso di entusiasmo passatemi questo termine quindi è un diavolo in fondo in realtà visto con un risvolto positivo cioè visto solo che c'è magari un eccesso di entusiasmo in quello che vi capiterà questa settimana ma eccesso a fin di bene intendiamoci però scoperte anche queste carte mi viene da un po' da rivalutare questo diavolo e da anche se non voglio assolutamente togliere quello che ho detto prima ma sicuramente con queste tre bellissime carte che vanno appunto a confermare l'energia di Iris di questo arcobaleno che caratterizzerà questa vostra settimana prima variante vi viene da dire sì effettivamente qui dopo veramente diciamo che questa scelta che sarà una bella scelta che vi porterà ad una felicità ad una serenità e secondo me è una scelta che cioè è un qualcosa che sarà a fin di bene se voi mi viene da dire anche questo che poi quello che ho detto prima se voi cambiate un vostro modo di vedere le cose un vostro mi viene da dire soprattutto un vostro atteggiamento ok questo è importante questo comunque rimane però prima variante sicuramente per voi questa settimana è caratterizzata comunque da una questione sentimentale positiva da una situazione una scelta anche sentimentale positiva oppure una scelta più in generale anche se con un dieci di coppe gli amanti e un dieci di coppe io qui ci vedo abbastanza i sentimenti ok però possiamo anche tenerlo più nel generale e magari parlare anche di una scelta che non riguarda proprio i sentimenti fatto sta che comunque al di là di questo diavolo che magari può mettere apparentemente un po' i bastoni fra le ruote la vostra settimana sarà molto molto positiva prima variante ok allora chi non l'avesse ancora fatto lo invito ad iscriversi al canale a cliccare sulla campanellina io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video seconda variante Pandora avete scelto Pandora la Dea Pandora questo oracolo vi vuole dire che c'è per voi questa settimana come un segno di speranza per qualcosa quindi coloro che hanno scelto Pandora hanno come una speranza versano una una speranza nei confronti di qualcosa o di qualcuno ok c'è una situazione per la quale voi magari sperate che vada in un certo modo ok andiamo a vedere allora la Luna il giudizio wow ragazzi la stella beh qui fra l'altro vi faccio vedere prima di spiegarvi questi arcani maggiori Pandora è un po' una 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 vedete che no forse non li vedete ma qui c'è come una sorta di di rituale no di rito che fa Pandora al buio con questi con questo con questi fuochi allora qui ragazzi della seconda variante qui ci potrebbe essere veramente ci potrebbero essere delle forti intuizioni mi viene da dire perché sia la Luna sia il giudizio sia la stella sono carte fra l'altro messe insieme così che caratterizzano comunque una parte intuitiva molto forte quindi seconda variante potresti avere delle intuizioni riguardo qualcosa oltre al fatto che con la carta del giudizio è sicuramente una carta che sta a significare che ci possono che ci saranno questa settimana delle notizie delle comunicazioni riguardo qualcosa probabilmente che voi state aspettando questa speranza no che voi avete in qualcosa e con la stella mi viene da dire che questa vostra situazione andrà per il meglio cioè le vostre speranze questa settimana magari non dico che dipende poi da situazione a situazione ovviamente non dico che proprio venga tutto magari risolto questa settimana però avete dei segni molto forti questa settimana riguardo a questa a questa situazione alla quale voi tenete molto ok andiamo a vedere gli arcani minori abbiamo un 4 di bastoni un 3 di coppe e un 4 di coppe beh ragazzi qui proprio si festeggia eh qui si festeggia si festeggia un qualcosa che sembrava sembrava un po' perso avevate quasi perso le speranze mi verrebbe da dire per voi della seconda variante eh allora io direi così seconda variante qui questa settimana sicuramente ci sono dei forti segnali o intuizioni o notizie o comunicazioni eh per quanto riguarda una situazione che vi darà una nuova veramente una nuova serenità e una nuova gioia ok e magari non si risolve tutto questa settimana però qui ci sono delle carte c'è un 4 di bastoni il 4 di bastoni è una carta proprio di di stabilità di quasi di ricostruzione di qualcosa e potrebbe essere per alcuni di voi anche una situazione sentimentale non è da escludere ma qui io voglio stare comunque nel generico e il 3 di coppe il 3 di coppe è la carta comunque della del festeggiamento della gioia proprio fra l'altro sotto al giudizio quindi qui c'è in arrivo veramente una notizia un qualcosa che vi vi dà ancora speranza vi dà ancora speranza e mi viene da dire che per molti è probabile che questa situazione si risolva veramente come desiderate voi la stella è anche la carta dei desideri è anche la carta dei desideri il 4 di coppe è la carta di chi magari non vuole vedere certe opportunità quindi mi raccomando quando vi arriverà questa notizia quando vi arriverà anche per alcuni di voi certe intuizioni cogliete tutto perché può essere proprio quella notizia può essere proprio quella comunicazione può essere proprio l'intuizione che sarà l'artefice di questa speranza che voi avevate un po' abbandonato ok seconda variante bello fatemi sapere nei commenti perché è molto bella questa questa stesa questa variante è molto bella e allora per chi non l'avesse ancora fatto lo invito ad iscriversi al canale a cliccare sulla campanellina io vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video terza variante galatea allora galatea è una dea la vedete qui su questo scoglio da sola e diciamo che il messaggio di questo oracolo di galatea è il triangolo che non vuol dire per forza un triangolo sentimentale una sorta di sentirsi un po' esclusi da qualcosa no anche se mi verrebbe da dire che non è che poi state così male in questa situazione perché vedete io questa galatea non è poi così triste si si pettina i capelli si guarda allo specchio insomma non è assolutamente diciamo in una in uno stato emotivo triste il messaggio è questo quindi è probabile per voi della terza variante che ci sia una situazione dove magari vi sentite un po' esclusi un po' messi da parte no rispetto a un qualcosa però ribadisco non è come un cinque di denari o un cinque di coppe dove veramente ci sono magari delle energie proprio di dispiacere di sconforto qui lei la vedo proprio sinceramente molto serena su questo scoglio vicino alle acque che si pettina questi capelli quindi onestamente non vi vedo poi così sofferenti di questa situazione però andiamo a vedere allora vediamo intanto cosa ci vogliono dire gli arcani maggiori abbiamo la luna la torre la papessa allora terza variante questa settimana questa settimana ci sarà ovviamente ci sarà un diciamo un ribaltamento mi viene da dire di una situazione che è rimasta per molto tempo un po' sotto le acque mi verrebbe da dire ok quindi un po' nascosta forse anche per questo vi sentivate un po' messi da parte in realtà questa settimana avrà qualcosa per cui sarà messo tutto alla luce cioè la papessa che è anche la carta dei contratti di ciò che è scritto no di ciò che è messo alla luce quindi mi verrebbe da dire terza variante che per alcuni di voi o per molti di voi ci sarà un qualcosa che porterà alla luce una situazione o in un altro in altra maniera possiamo dire ci sarà un accadimento un qualcosa che farà in modo magari siete anche voi che che provocate questo cambiamento potreste essere anche voi oppure oppure un'energia che viene dall'esterno un qualcosa dall'esterno fatto sta che queste questa diciamo situazione che è rimasta un po' appunto lunare un po' un po' notturna un po' nascosta un po' velata verrà fuori verrà fuori e per alcuni di voi potrebbe esserci anche appunto potrebbe essere legato anche a qualcosa di scritto a un a un contratto a qualcosa di scritto di burocratico ok andiamo a vedere gli arcani minori vedete qui c'è una comunicazione lotto di bastoni energie veloci re di spade e due di denari allora sì terza variante qui questa settimana ovviamente ognuno poi la la cuce in base alla propria situazione ma questa settimana qui c'è mi viene da dire a questo punto questa persona questo re di spade quindi è una figura maschile in prevalenza per molti di voi che sarà l'artefice di questo cambiamento ok ci sarà una comunicazione da parte di questa persona che porterà un ribaltamento della situazione anche un ribaltamento proprio anche di posizioni con questo due di denari sotto alla papessa mi viene da dire per alcuni di voi che potrebbe essere effettivamente un qualcosa di legale di burocratico sicuramente c'è anche questo non solo ma sicuramente c'è anche questo comunque qui c'è questa settimana c'è una comunicazione probabilmente che non vi aspettate perché con la torre e questo re di spade forse non vi aspettate questo tipo di comunicazione che potrebbe anche destabilizzarvi un po' potrebbe anche destabilizzarvi potrebbe essere per alcuni di voi potrebbe essere anche un qualcosa che non vi aspettate e che onestamente un po' vi destabilizza però mi viene anche da dire che per alcuni di voi invece per altri e per la maggioranza questo è un qualcosa che va a come posso dire mettere nero su bianco e a ribaltare proprio una situazione che era un po' diciamo era lì un po' latente un po' nascosta un po' con la luna con la notte era un po' lì ok questo mi viene da dire questo che mi arriva molto quindi tutto sommato questa galatea che in realtà si sente un po' esclusa da una situazione perché magari non era molto stagnante rimaneva un po' stagnante tutto sommato forse non ci stava poi così male perché magari questa notizia che arriva magari per alcuni di voi non è proprio forse il massimo però è necessaria mi verrebbe da dire per alcuni di voi questa cosa è un po' necessaria fatto sta che comunque con la torre questo è un po' un qualcosa di inaspettato è un qualcosa di inaspettato sicuramente fatemi sapere nei commenti perché questa questa terza stesa è particolarmente mi ha incuriosito particolarmente interessante e per chi non l'avesse fatto lo invito ad iscriversi al canale a cliccare sulla campanellina io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video